Dopo la sconvitta di Marineo, la Nissa scenderà in campo domenica al Tomaselli nel big match della diciottesima giornata contro la capolista Acragas. Settimana intensa di preparazione, anche se è una gara così importante, si prepara già da sola. La sconvitta di domenica scorsa ha rallentato la ringorsa playoff dei biancoscudati, ma un risultato positivo contro gli agrigendini potrebbe riaprire uno spiraglio che al momento appare improbabile. Dall'altra parte, la capolista Acragas che dista di un punto solo dall'Enna secondo in classifica, viene dalla vittoria dell'esseneto di domenica contro il Mazzara, ma con il morale a terra per la sconvitta pesante nella finale di Coppa Italia contro l'Igea. Eccellenza, diciottesima giornata, girone A. Casteldaccia, Oratorio, San Ciro e Giorgio. Don Carlo Misilmeri, Castellammare. Enna, Nuova Città di Gela. Leonfortese, Profavara. Mazzara, Parmonval. Resuttana, Mazzarelli. Chacca, Cus, Palermo. Nissa, Acragas.